Oggi riposo, domani il Giro d'Italia comincia ad affrontare le montagne e lo fa partendo dai grandi passi valtellinesi. La sedicesima tappa Rovetta-Bormio, 222 chilometri, è di quelle che lasceranno un segno decisivo nell'esito della Corsa Rosa del Centenario. Partenza in provincia di Bergamo, poi passaggio in Val Camonica fino a Edolo, da qui si comincia a salire e da Monno ci si inerpica sui tornanti che conducono ai 1854 metri di quota del passo della Foppa per tutti il Mortirolo che conduce in Valtellina. Il Gran Premio della Montagna, intitolato alla memoria di Michele Scarponi dopo 84 chilometri di corsa, sarà raggiunto fra le 12 e 57 e le 13 e 16 secondo la media tenuta dai corridori. Da qui la discesa verso Grosio, località Vernuga, dove i girini imboccheranno l'ex statale, ora provinciale 27, verso Sondalo, Leprese e Cepina. Secondo la cronotabella il primo passaggio dal centro di Bormio, quando mancheranno ancora 100 chilometri all'arrivo avverrà fra le 13 e 47 e le 14 e 11, da qui 21 chilometri con oltre 1500 metri di dislivello per salire ai 2758 metri del passo dello Stelvio, cima Coppi. Dal valico la discesa in Val Venosta, poi l'ingresso in Svizzera, la risalita dello Stelvio dalla Val Monastero fino al passo dell'Umbrai, il gioco di Santa Maria, 2502 metri. Infine gli ultimi 20 chilometri in discesa fino all'arrivo a Bormio in piazzale Funivie, atteso fra le 16 e 47 e le 17 e 40. La prefettura di Sondrio ha emesso apposite ordinanze per disporre le opportune chiusure viabilistiche. Le strade che salgono da Bormio, località Bagnivecchi, al passo dello Stelvio, e dal Vivio, Mazzo, località San Matteo, fino al passo del Mortirolo, vengono chiuse alla mezzanotte di oggi. Dalle 8 poi sarà chiuso anche il primo tratto, compreso tra San Matteo e l'incrocio con la SP27 in località Vernuga di Grosio. Il tratto da qui fino alla località Le Prese sarà chiuso dalle 12 e 30 fino al passaggio della carovana nel senso contrario alla corsa dalle 12 e 40 chiusura totale. Il tratto Le Prese e Cepina-Capitania nel territorio di Val di Sotto fino all'innesto sulla nuova rotonda di Bormio e ritorno sulla statale 38 sarà chiuso dalle 12 e 50 nel senso contrario alla corsa dalle 13 chiusura totale. Il tratto di 38 nuova rotonda di Bormio, Bormio Centro, Bagnivecchi, chiuso dalle 13 nel senso contrario alla corsa dalle 13 e 15 chiusura totale. Il pezzo finale da Bagnivecchi all'arrivo in piazzale Funivie, chiusura nel senso contrario alla corsa dalle 16, chiusura totale dalle 16 e 10.